L'interesse sociale deve diventare il proprio interesse. In altre parole, quando invento qualcosa, viene resa disponibile a tutti e chiunque la può migliorare e utilizzare. Questa invenzione non viene vincolata da brevetti e marchi. Viene data a tutti. Ogni volta che qualcuno inventa qualcosa o ha un'idea, questa viene data o trasmessa anche a me. Improvvisamente l'umanità diventa un organismo unico, diventa un sistema funzionante. Grazie per la visione!